Non cettiamo responsabilità sugli altri perché noi abbiamo avuto doni infiniti da Dio per autogestirci noi bene come cristiani. Prendete il caso dei medici. Se il medico, sin da studente, si è impegnato a studiare e anche dopo si impegna a vedere come risolvere un problema della medicina e si sacrifica vicino all'ammalato per salvarlo, quel medico non ha fatto un miracolo, c'era bisogno che scendesse Gesù dal cielo. L'ha fatto il medico e così tutte le professioni, Dio già ci ha dato i doni, gli strumenti, gli occhi, la parola, l'intelligenza, la volontà, eccetera. Già ci ha arricchiti di doni. Dobbiamo soltanto mettere in atto che il Signore ci apri, ci illumini e ci faccia essere svegli, non andare a dormire per fare il bene ai fratelli.